Siamo qui con Ferraro, centrocampista dell'FBC Saronno. Anche a te chiedo la stessa cosa che ho chiesto a Colombo, come hai visto la partita. Una sconfitta sicuramente immeritata, come l'hai vista dal tuo punto di vista? È stata una bella partita, sicuramente combattuta tutte e due le squadre. È un buon punto di partenza, non ci dobbiamo recriminare nulla perché mi ha commettuto fino all'ultimo pallone. Purtroppo abbiamo mollato gli ultimi secondi alla fine nel recupero e purtroppo l'episodio fa una differenza. Hai detto che deve essere il punto di partenza. Dalla prossima con questa mentalità secondo te si possono iniziare a fare punti? Sicuramente, faremo sicuramente punti. Se continuiamo a giocare così sicuramente riusciremo a fare punti. Grazie e complimenti per la prestazione. Grazie.